Allora, buonasera e benvenuti a questo spazio aperto, che stasera mi vede da solo perché non ho ospiti, non che non volessi degli ospiti, ma perché avevo fatto una promessa a qualche amico su Facebook qualche giorno addietro e volevo parlare del discorso relativo agli investimenti pubblici, in particolare alla proposta di Italia Shock, Italia Viva, di Matteo Renzi dei famosi 120 miliardi, 120 miliardi di investimento. Che cosa c'è da dire su questo? Qualche cosa l'ho già detto durante la chiacchierata della settimana scorsa, verso la fine di quella chiacchierata disse insieme ai miei amici e compari che di fatto i 120 miliardi di proposti immaginati a Renzi non ci sono e ci sono delle ragioni tecniche per cui non possono esserci. Quindi non è che non ci sono per mancanza di volontà politica o per mancanza di risorse, sebbene la mancanza di risorse sia poi una cosa che spesso ricorre quando si parla di finanza pubblica italiana. Non ci sono, dicevo, perché non ci possono essere per ragioni tecniche. Ma vediamo un attimo di tornare indietro e cerchiamo di capire esattamente che cosa dice Renzi, che poi è molto semplice perché i suoi messaggi sono sempre piuttosto semplici e semplicistici, se vogliamo. Renzi dice, presenteremo un disegno di legge a gennaio sul quale pensiamo di riuscire ad ottenere una convergenza sia delle forze di governo che delle forze di opposizione, che proporrà in modo analitico una sorta di grande sblocco cantieri per un valore complessivo di 120 miliardi. Evidentemente si riferisce a opere pubbliche, si riferisce a opere infrastrutturali, si riferisce alla oramai annosa questione del distesso idrogeologico, di cui abbiamo tra l'altro purtroppo ampia prova anche in questi giorni. Insomma, lui dice di avere il proiettile d'argento per far ripartire queste benedette opere pubbliche. Secondo lui il proiettile d'argento è fatto da, è costruito dalla nomina di commissari speciali. Tenete bene a mente questo punto, perché lui ha citato il modello Pompei e in particolare il modello Milano Expo di qualche anno fa. Secondo lui la nomina di commissari speciali sbloccherebbe d'incanto questa massa enorme di denaro depositato in qualche cassetto nel Ministero delle Finanze o negli altri ministeri e quindi genererebbe sviluppo, crescita e quant'altro. Questo nel mondo dei sogni. Analiticamente, perché non esiste il cassetto? Il cassetto non esiste perché la formazione della legge di bilancio deve eseguire dei criteri che sono stabiliti per legge, con leggi rafforzate. Quando ci sentite parlare di legge di bilancio, di documento programmatico di bilancio o di DEF, o di note di aggiornamento al DEF, dovete sapere che tutti questi passaggi sono scanditi non dalla volontà politica parlamentare di fare le cose in un certo modo, ma sono scanditi da due leggi in particolare che hanno riformato il criterio di redazione del bilancio pubblico. Sono due leggi, una del 2012 e un'altra del 2016, che appunto stabiliscono quali devono essere i passaggi e quali sono in particolare i criteri per la determinazione dei capitoli di spesa. Nel gergo tecnico si chiamano spese per missioni. Dopo vi farò vedere una tabella brevissimamente che forse vi fa vedere anche in modo molto esplicito di cosa sto parlando, ovvero si descrive la legge di bilancio, anzi meglio ancora, prima un documento di programmatico di bilancio che ha durata triennale e che dovrebbe stabilire quali sono le assegnazioni che vengono fatte per ogni missione, per ogni capitolo di spesa e quindi per competenza al ministero che se ne fa capo, dai vari ministeri, istruzione, infrastrutture, finanze, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questi passaggi sono determinati dalla legge, non può essere fatto diversamente. Si possono naturalmente durante l'anno fare dei decreti d'urgenza, ma quello è un altro capitolo, quello è un'altra storia. Ma la cosa importante è che le assegnazioni, ovvero quanto la pubblica amministrazione, quanto il governo, quanto l'amministrazione pubblica in generale, non soltanto il governo, vuole destinare alla realizzazione di determinate opere, deve essere stabilito lì dentro. Deve essere stabilito lì dentro attraverso degli stanziamenti. La costituzione di una provvista per la quale provvista bisognerà poi dopo cercare le risorse. E dove vanno trovate le risorse? Dove vanno cercate le risorse? Devono essere trovate all'interno del Parlamento attraverso una discussione parlamentare che deve individuare se quelle opere da finanziare o quelle spese da finanziare hanno una copertura. Nei mesi scorsi si è sentito spesso dire che ci sono stati dei risparmi, in realtà dovremmo dire che ci sono state delle minori spese, minori spese per esempio per quota 100 o per reddito di cittadinanza, come è noto, ma minori spese anche per investimenti pubblici. Una cosa importante di cui Renzi dovrebbe tener conto e di cui ogni politico dovrebbe tener conto è il fatto che la legge impone che quanto è stato stanziato per una determinata missione e non è stato speso per le ragioni più diverse non può essere accantonato in un cassetto. Deve essere nella legge di bilancio successiva ristanziato con la ricerca di nuovo di coperture. È consentito, anzi è previsto dalla legge, neanche consentito, che quanto non stato speso possa essere speso entro l'esercizio successivo. Quindi io ho provato a pensare che cosa immaginasse Renzi quando ha fatto quell'affermazione, perché lo sanno tutti per le opere pubbliche tali, per la tab, per autostrade e così via, ci sono delle leggi che prevedono lo stanziamento, che sono magari anche stanziamenti pluriennali, ma non è che poi se non vengono spesi quei soldi restano in un cassetto accantonati. Quell'opera, quello stanziamento, mi verrebbe da dire, è un'espressione un po' forte che però riesco a dare l'idea, di fatto decade se non viene rifinanziato. Per cui l'anno successivo tutto questo iter di carattere parlamentare, e non soltanto parlamentare, deve ricominciare, deve ripartire da capo. Quello che ho pensato io, che Renzi probabilmente abbia immaginato, secondo me non può non saperlo avendo fatto il Presidente del Consiglio, che ci fossero appunto dei cassetti in cui i soldi non spesi erano stati messi da parte. Allora, i cassetti non esistono e questa è la prima cosa, la più importante, che poi fa accadere completamente il discorso fatto da Matteo Renzi. Oltretutto stanziare dei soldi non significa spenderli necessariamente, perché poi come vedremo fra un attimo, stanziare dei soldi significa semplicemente appostare in un bilancio pubblico che è molto complicato. Se qualcuno ha voglia di divertirsi può andare a vedere quali sono i capitoli di un bilancio pubblico, evidentemente molto diversi da quelli di una società anche di grandi dimensioni. Tenete presente, c'è un PDF sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, dove sono elencati numericamente tutti i capitoli che formano un bilancio pubblico, sono 454 pagine. Questo per rendere idea di quanto è complicata la gestione di un bilancio pubblico. Ebbene, dicevo, stanziare dei fondi non significa averli a disposizione. Significa magari che le coperture dovranno essere cercate e che le coperture per il piano plurinale dovranno essere cercate negli anni successivi a quello dello stanziamento. Questa è una cosa che avviene tutti gli anni. Le coperture vanno di volta in volta ricercate. Ora, Michele, la settimana scorsa mi chiese sinteticamente, grosso modo, a quanto ammonta la spesa, diciamo così, disponibile. Io dissi una cifra, che poi sono andato a rivedere, a ricontrollare, intorno ai 10 miliardi. Effettivamente quello che si trova nei documenti presenti sul sito del MEF o della Ragioneria Generale dello Stato ci restituisce un importo stanziato, quindi non già speso o comunque in via di spesa, ma un importo stanziato per il 2020 in capo al Ministero delle Infrastrutture di 7,1 miliardi. Se vogliamo aggiungere i 3 miliardi previsti come spese per la scuola e attraverso varie leggi, per la scuola, per la messa a norma e sicurezza degli edifici scolastici e così via, ne troviamo altre 3. Quindi, grosso modo, siamo esattamente intorno a quei 10 miliardi di cui avevo parlato. Che, ripeto, però sono stanziati. Non ci sono ancora. Non ci sono ancora. Una cosa molto importante è, come dicevo prima, quella di il discorso legato ai commissari. Allora, io vi invito ad andare a vedere un sito che fa monitoring sulle opere pubbliche per le quali sono stati previsti degli stanziamenti e va a vedere, per ogni opera pubblica, si può fare anche una ricerca per regione, una ricerca molto profondita, il sito è stato creato a Lancia, Associazione Nazionale Costruttori, si può andare a vedere che cosa succede alle opere che sono bloccate. Il sito si chiama Sblocca Cantieri, un po' come il decreto famoso del governo gialloverde che doveva portare altrettanti benefici di Italia, del quale non si è ancora niente, non si è ancora neanche un risultato. A Campione potete andare a cercare, scegliendovi la regione, scegliendovi il tipo di opera, a che punto è l'iter? Troverete molto spesso che quest'iter è bloccato dalla mancata, non avvenuta nomina dei commissari, perché il commissario non è un'invenzione di Renzi, il commissario è una figura che è già stata prevista, e Michele l'altro giorno ricordava il commissario Almose, il commissario è una figura pubblica che è già stata prevista, e molto spesso proprio la nomina dei commissari blocca l'esecuzione di un'opera, perché la nomina dei commissari deve essere fatta in Parlamento. Quindi interparlamentare, calendario dei lavori, eccetera, 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 e troverete, io vi invito veramente a farlo, proprio a Campione, scegliete una regione, quella che volete, cliccate su una delle opere pubbliche che in questo momento sono bloccate, e troverete molto spesso che l'opera pubblica è bloccata perché manca la nomina dei commissari. Quindi evidentemente non è questo il problema, non è questo il motivo per cui non si spendono i soldi, ma probabilmente il motivo è il fatto che in Italia, a cominciare dal codice appalti, più volte criticato, anche se immesso nella legislazione del governo Renzi, a cominciare da quello e poi tutta la burocrazia che ne consegue, evidentemente c'è un sistema normativo che non funziona, che è poco efficiente, e non è la nomina del commissario che è già prevista che potrebbe sbloccare questa situazione. Il discorso, ancora una volta, è molto complesso e un politico accorto che non vuole fare soltanto propaganda dovrebbe preoccuparsi di risolvere il problema piuttosto che di presentare ricette che poi si scontrano duramente con la realtà. Un'altra cosa molto interessante, sempre per raccontare un pochettino il sistema Italia, uscire un attimo, allargare il discorso dall'affermazione di Renzi a che cos'è, qual è l'impatto delle opere pubbliche, degli investimenti pubblici sull'economia italiana, lo si può trovare all'interno di un paper pubblicato un mese e mezzo fa, mi pare ottobre, sì era ottobre, dalla Banca d'Italia. Che cosa fa la Banca d'Italia? Fa due operazioni. La prima è quella di andare a verificare quale potrebbe essere l'impatto sull'economia del paese di un aumento degli investimenti pubblici. In particolare ha scelto uno scenario in cui gli investimenti pubblici aumentassero dell'1% del PIL rispetto a quanto già succede. La Banca d'Italia dice anche che a differenza di quanto è successo nei paesi, i nostri partner europei, gli investimenti pubblici sono scesi in un decennio di circa l'1%, sono passati dal 3% del PIL al 2% del PIL. E questo è il primo punto. E allora disegna uno scenario, naturalmente con uno scenario benchmark, uno scenario base e poi un best scenario e un worst scenario, in cui attraverso un modello in statistico calcola l'impatto che avrebbe questo 1% in più di investimenti. Il paper si trova sul sito della Banca d'Italia, adesso ve lo faccio anche vedere perché è piuttosto interessante. Alcuni risultati che restituisce non è che mi convincano proprio in modo particolare. Il paper è questo qui, è un quaderno di economia. Adesso facciamo il solito share, sperando di fare lo share giusto. Eccolo qui. Questioni di economia e finanza, occasional papers. Capitale, investimenti pubblici in Italia, effetti macro, misurazione, debolezze regolamentari. Come vedete, anche Banca d'Italia si preoccupa di fare un monitoraggio delle debolezze regolamentari. Cioè, cos'è che non funziona? E infatti anche nella individuazione di quelli che potrebbero essere gli scenari di crescita del PIL per effetto degli investimenti pubblici, dice, attenzione perché questi risultati sarebbero frutto di un'efficienza ottimale di tutto l'iter procedurale e dell'utilizzo ottimale delle risorse. Allora, qui vedete che nella scena di base, loro hanno individuato un moltiplicatore per il primo anno del 0,9%. Lo troviamo, moltiplicatore fiscale rimanevato per il primo anno 0,9% ma scende gradualmente in quelli successivi, 0,7% dopo 5 anni. Allora, vedete l'impatto che si avrebbe sul PIL e l'impatto che si avrebbe sul rapporto debito PIL. Naturalmente la Banca d'Italia ammonisce, ci sono altre variabili che vanno considerate, ma non entriamo in questa cosa. Comunque la Banca d'Italia fa un paper in cui appunto disegna diversi scenari di risultati macro qualora aumentassero gli investimenti pubblici dell'1% del PIL. Torniamo, togliamo questo, poi lo rivedremo dopo. L'altra cosa molto importante è che mette appunto in evidenza le criticità che ci sono. Adesso vi faccio vedere un grafico che è estremamente semplice, che dà perfettamente l'idea di quello che voglio dire. Allora, devo cercare Screen 2. Scusate, ce la facciamo. Eccolo qua, penso che lo vediate. Tempi di realizzazione per classi di costo e fasi in Italia, sempre riferito agli investimenti pubblici. Allora, qui vediamo le varie fasi di investimento pubblico. La fase di progettazione, l'affidamento a gara dell'opera e poi la fase di realizzazione e esecuzione dell'opera. Per le grandi opere il tempo medio di realizzazione è 13,9 anni. Questo significa che quell'investimento produrrà un risultato economico sulla ricchezza del paese dopo 13,9 anni. Per le opere di dimensioni medio-grandi passiamo a 9,7, per le opere medie 5,8. Abbiamo un totale medio di 4,4 anni. E questo mi fa venire in mente che il nostro amico Filippo Dadei durante le giornate di giugno di Liberi Oltri raccontò esattamente questo. Cioè che più grande è un'opera che si vuole finanziare e realizzare, più sono lunghi i tempi di attesa, chiaramente l'impatto sarà maggiore sul PIL del paese, però dobbiamo aspettarci poi dei risultati sul lunghissimo tempo, sulla lunga scadenza. Infatti la Banca d'Italia ammonisce anche su questo punto perché dice ci sono delle evidenti carenze di efficienza proprio nella fase di progettazione e di realizzazione delle opere. Questa è una cosa che sappiamo ma tante volte dimentichiamo. La cosa che fa un particolare specie è quanto tempo si perde per la fase di progettazione. Non tanto per la fase di affidamento che pure non è poco, perché anche questa è una cosa su cui si potrebbe assolutamente migliorare. Ma la fase di progettazione veramente ha dei tempi lunghissimi. Volendo prendere come esempio il MOSE, ricordiamoci che cosa dicemmo a proposito del MOSE. Cioè il progetto degli anni 80, il progetto esecutivo è del 2002, la realizzazione comincia dopo e forse ne vedremo la consegna con l'entrata nella fase di gestione di questa grande opera forse nel 2021-2022. Rispetto a quando è partita la fase di ideazione e progettazione di un'opera di questo tipo saranno passati la bellezza di poco meno di 40 anni. Tutto questo la Banca d'Italia lo dice e dice attenzione perché poi i risultati economici dipendono naturalmente anche dall'efficienza delle procedure burocratiche che hanno portato alla realizzazione di quella data opera. Tra l'altro realizzazione di opere infrastrutturali in particolare che ci vede perdenti ovviamente anche nei confronti dei principali paesi. Come spesso viene detto, però poi ci se ne dimentica quando bisogna fare marketing politico, le opere pubbliche italiane sono mediamente più costose, sono mediamente meno efficienti e la loro realizzazione dura mediamente di più rispetto a praticamente tutti gli altri paesi europei, ma in particolare i paesi europei a noi comparabili, come appunto Germania, Francia e anche Spagna. Adesso vi faccio vedere un altro grafico che è estremamente interessante che riguarda la comparazione degli investimenti. Non trovo screen 2, eccolo qua. Questo è sempre preso dal solito paper di Banca d'Italia. Investimenti fissi d'ordine e le amministrazioni pubbliche nelle principali economie dell'area euro. La fonte è la Commissione Europea, database Ameco. Allora, vedete l'Italia dove si pone. Questo è in dato, in miliardi di euro in percentuale. L'Italia è questa, spero di vedere bene, questa qui. Vedete il trend discendente. Certo, meno della Spagna, però il trend è costante e in discesa. Fa meglio la Germania, chissà perché cresce, cresce, quest'anno magari no, però di solito cresce più di noi. Chi investe di più risorse pubbliche è la Francia. Sia in percentuale più che in valore assoluto. Ricapitolando, abbiamo un problema di efficienza proprio della macchina burocratica, che non è capace molto spesso di spendere, che impiega troppo a spendere e che ha tempi di esecuzione, di realizzazione, di assegnazione dei progetti estremamente lunghi. Abbiamo una spesa per unità di investimento, pensiamo alle ferrovie piuttosto che l'autostrade, che a volte è più del doppio rispetto a quello della media europea. Abbiamo, ma questo ce l'hanno anche gli altri, perché le regole di realizzazione del bilancio sono europee e non sono italiane. Abbiamo la necessità, anno per anno, di appostare in bilancio un stanziamento e poi dopo l'appostazione in bilancio dobbiamo reperire i soldi. non ci sono soldi accantonati, perché quei soldi che sono stati stanziati non si cumulano, ragion per cui quello che dice Renzi, per il quale io sono veramente curioso di vedere che cosa presenterà a gennaio, per adesso c'è soltanto una presentazione in PowerPoint molto molto grossolana nei numeri e senza nessuna analisi approfondita, fatta dalla fondazione Edison da Marco Fortis. Sono molto curioso, dicevo, di vedere che cosa presenterà. Io immagino che quello che potrà presentare è uno sblocca cantieri 2. E infine, che è la cosa principale, non è vero che ci sono 120 miliardi nel cassetto pronti ad essere investiti. Se si potesse fare un calcolo di questo tipo, cioè sommare gli stanziamenti per missione cumulati, arriveremo a cifre che sono molto superiori ai 120 miliardi. Se prendiamo semplicemente un triennio ed accorpiamo i vari capitoli di spesa, arriviamo oltre 400 miliardi. Il punto è che questi soldi non possono essere spesi e soprattutto non possono essere spesi con un tratto di penna, come dice Renzi. Mi fermo qui, voi per stanchezza, voi perché altri argomenti più di gossip politico non mi va di affrontarli. Spero di essere stato chiaro e di aver fatto comprendere per quale motivo, ancora una volta, ancora di più, bisogna fare veramente la tare, l'analisi di quello che dicono i politici. Perché purtroppo le bacchette magiche in finanza pubblica, ma non soltanto in finanza pubblica, non esistono. Difidate sempre dai politici che vi raccontano che è molto semplice risolvere problemi complessi. Perché i problemi complessi esigono risposte complesse. Bene, grazie e a presto sul canale nostro, insieme agli altri, insieme a qualche altro ospite settimana prossima. Ciao!